Ciao a tutti! Quando leggete o studiate, vi capita mai di ascoltare musica? Per me è una cosa molto naturale, ma nella mia vita di lettore, in anni e anni, ho scoperto che l'unione tra lettura e musica è un enorme tabù. Questo dipende dal fatto che molte persone non riescono ad unire la lettura con la musica che deconcentra, perché la musica è un mezzo mediatico molto immediato, la percepisci e ti distrae, no? Ma in verità, il vero cruccio è la scelta di questa musica. Che musica scegliete quando leggete? Dal mio punto di vista, ovviamente ci sono persone che desiderano l'assoluto silenzio, quindi l'approccio è diverso da persona in persona. Per quanto mi riguarda, l'assoluto silenzio è quasi un ostacolo alla lettura per il sottoscritto. Premettendo che l'assoluto silenzio non esiste, io faccio fatica a concentrarmi, se non creo, un paesaggio sonoro attorno alla lettura, o che mi aiuti ad immergermi nella lettura. Perché bisogna considerare che quando si legge un libro, bisogna fare una pausa, una pausa dalla vita frenetica, perché è proprio l'ingresso in un altro mondo e deve essere un tipo di approccio estremamente attivo e plurisensoriale, in un certo senso. Quindi è per quello che bisogna mettere un freno anche alle nostre manie del multitasking. Però se la musica può essere un'ottima compagna nell'accompagnarci nell'ingresso di questo libro, allora benvenga. Benvenga. L'importante è scegliere la musica adatta. Io faccio fatica appunto col silenzio perché mi deconcentro facilmente se il libro non è abbastanza appassionante. Se è appassionante me ne frego totalmente e il libro mi rapisce in particolar modo. Ma se sto leggendo un libro abbastanza lento, che comunque mi sta piacendo molto, la musica mi aiuta a mantenere un certo ritmo nella lettura, cioè a fluire nella lettura. E allora, Matteo, che cosa sceglie di ascoltare quando legge? Questi che voglio darvi sono alcuni consigli per creare un pattern sonoro attorno alla lettura. Per me ascoltare musica è importante anche per annullare tutti quei rumori che rendono impossibile l'assoluto silenzio. Perché dico che l'assoluto silenzio non esiste? Perché è comprovato. Perché un rumore c'è sempre. Dal leggiadrio cinguettio degli uccellini al vicino del sedile a fianco sul treno che blatera al telefono a voce altissima alle 6 del mattino. Quindi, tra i rumori molesti, preferisco sinceramente la musica. Ma che musica, Matteo? Viene al dunque. Allora, quando ero ragazzino, non avevo alcun problema a riguardo. Nel senso che io tranquillamente facevo i compiti e tenevo MTV acceso. Cioè, andava. Infatti si vedeva dalle mie versioni di latino, eh. No, però, da ragazzino, veramente, non subivo questo problema della musica che deconcentra. Perché riuscivo, in un certo senso, a scindere le due cose. Poi, quando partiva la canzone vera, mi mettevo a ballarla. Dimenticavo latino e poi tornavo. Però, vabbè. Crescendo, invece, ho sempre più avuto l'esigenza di cercare la musica adatta. E la musica adatta, secondo me, è quel tipo di musica che rifugge da ogni senso melodico. Cioè, non deve avere una melodia riconoscibile immediatamente. Andando avanti nella ricerca sonora, negli ascolti da associare ai libri, mi è diventato quasi impossibile anche ascoltare musica classica. Perché la musica classica, a meno che non sia contemporanea, ma in quei casi si va addirittura nella calcofonia, e quindi ancora peggio, però la musica classica, quell'Arcinota, da Beethoven, Schubert, Wagner, ok, per nominare musicisti classici che mi piacciono molto, hanno comunque delle melodie molto precise, molto riconoscibili, e quindi io mi perdo via ad ascoltare la melodia. Là, il grande genere, che è scontato, ma ve lo voglio consigliare, il grande genere che mi aiuta a concentrarmi tanto nella lettratura è l'ambient. Ascolto tantissima elettronica ambient, e funziona a meraviglia. È fatta proprio per quello, in un certo senso, per rilassarti, ma anche per leggere. A me dell'ambient piace molto anche il dark ambient, che è un ambient molto più cupo, oscuro, ma in quel caso per le letture ve lo sconsiglio, perché è troppo pesante. L'ambient che serve nella lettura è un ambient molto leggiadro, molto leggero, soffuso, e anche se non è un genere di musica che ascoltate spesso, ad esempio mettiamo il caso che voi siete dei poppettari, non importa, secondo me, perché voi non dovete concentrarvi sulla musica che piace a voi. Voi state mettendo in scena, appunto, un mondo sonoro attorno al libro. Se voi scegliete della musica per leggere il libro, dovete leggere il libro, il focus è il libro. La musica deve essere un contorno che in un certo senso vi spinga, vi crei un immaginario, vi aiuti a creare l'immaginario e a potenziare quello del libro, in sostanza, no? E quindi deve essere musica, secondo me, priva totalmente di voci, perché purtroppo, essendo la voce umana la cosa più vicina nella musica, l'orecchio va subito lì, va subito anche a decifrare le parole che vengono dette. Quindi, cioè, musica vocale, assolutamente no. Meno che meno quella italiana, perché quella straniera ancora ancora, soprattutto se non sapete la lingua, non vi concentrate sul testo, ma no a canzoni. Le canzoni no mentre si legge, perché sono la prima fonte di distrazione, soprattutto per generi molto melodici, tipo il pop, il rock, o ancora i generi assordanti, forti, tipo l'hardcore, il metal, ecco, no, ovviamente. Il genere è l'ambient, secondo me. È un ambient leggero, soffuso. Ad esempio, io leggo spesso ascoltando Brian Eno, che è un grande compositore, produttore, ha lavorato anche con star di fama internazionale, come David Bowie, David Byrne, dei Tolkien Eds, ma anche artisti più pop, come i Coldplay, pop nel senso di famosi, per dire, famosi anche oggi. Quindi, è un artista tutto tondo, un artista che ha collaborato con le più grandi star della musica, i più grandi geni della musica, e che tuttora produce album di grande levatura. Se volete approcciarvi a Brian Eno, vi sconsiglio ovviamente i primi album, perché i primi album flirtano ancora con il glam rock, l'art rock, sono bellissimi, ma vanno ascoltati al di là della lettura. Dischi che vi consiglio, suoi, e che vi lascio qua sotto, sono assolutamente Apollo, che è bellissimo, è proprio lunare, è proprio un viaggio all'interno dello spazio, Apollo e Discreet Music. Meraviglioso. Sempre parlando di spazio, a me piace molto ascoltare, qua mi prenderete per folle, ma mi piace molto ascoltare, una serie di dischi, che non scherzo, sono stati pubblicati dalla NASA. Si chiamano Symphony of the Planets, e sono una serie di dischi, con i suoni emessi dai pianeti. Praticamente sono stati registrati, i suoni che i pianeti emettono, nel loro girare attorno al proprio asse, no? I pianeti emettono un suono, e sono stati veramente pubblicati dei dischi, che contengono questi suoni, e vi giuro, sono dei landscape sonori pazzeschi, cioè proprio viaggioni vi fate, i viaggioni, meraviglioso. Altro grande compositore da non perdere, se si cerca musica per leggere, è Ryuichi Sakamoto, famosissimo compositore, che è passato dal synth pop, alle colonne sonore più famose, musicista classico, elettronico, ma vi consiglio soprattutto, le sue collaborazioni, perché lui è un bravissimo pianista, tra l'altro, le sue collaborazioni con musicisti elettronici, soprattutto le collaborazioni con Alvanoto, di cui vi consiglio l'album Vryoon, scritto V-R-I-O-O-N, vi lascio sempre qua sotto, e con Fennest, Fennest, un grandissimo musicista austriaco elettronico, con cui l'artista giapponese ha realizzato Sendre, scritto Sendre, Soundre, che è anche quello un album perfetto, per l'ascolto durante la lettura, molto soffuso, rarefatto, rilassante, ah che bello, leggiamo tutti assieme appassionatamente. Altro artista, molto più famoso, cioè molto più famoso, sto nominando solo nomi famosi, in verità, esclusi dischi della NASA, ma vabbè, altro artista che ascolto spesso, quando leggo, è Apex Twin, però Apex Twin ha fatto delle robe power, infatti l'unico suo disco, che vi consiglio veramente, di ascoltare mentre leggete, è Selected Ambient Works, il volume 2, perché il primo è molto dense, il secondo invece è veramente ambient, ma quell'ambient perfetto, per concentrarsi, a mio parere. In realtà, se volete scoprire di più, c'è anche una mia playlist, su Spotify, che si chiama, Full Reading Experience, quindi seguitemi, chiamo Matteo Fumagalli, o seguitela playlist, o se cercatela, se volete, lì ho inserito un sacco di album, fate riproduzione casuale, e via, quelli sono i miei consigli, però appunto, questo è quello che ascolto io, durante la lettura, soprattutto musica ambient elettronica. Voi, invece, come agite? Perfino l'ambient vi deconcentra, o ascoltate anche Electropop, e non ve ne frega nulla, oppure, che genere ascoltate, quando leggete, o studiate? C'è qualcosa che vi aiuta veramente, a concentrarvi? Fatemi sapere, sarei curioso, questi sono i miei consigli, ricordatevi sempre, che quando leggete, non dovete puntare, per forza, sulle artistiche preferite, dovete trovare la musica adatta per leggere, perché è la lettura, il focus principale, la musica è il contorno che vi deve aiutare, ovviamente, ve lo dico, nel caso in cui, non siate di quei puristi, che necessitano, per forza, l'assenza di qualsiasi suono, che non sia della natura, ovviamente. Fatemi sapere, io vi mando un bacione, e vi aspetto al prossimo video. Ciao, ciao, ciao,